Un grave incidente sull'autostrada A4 ha causato un morto e un ferito. Lo schianto, un tamponamento a catena, si è verificato nel tardo pomeriggio di mercoledì nel tratto tra Cessalto e Sanstino in direzione di Trieste. Coinvolti ben cinque mezzi pesanti, uno di questi a causa dell'impatto è fuoriuscito dalla carreggiata. La vittima è un giovane camionista di nazionalità croata. La violenza dell'impatto non gli ha lasciato scampo quando i pompieri l'hanno estratto dall'abitacolo era già senza vita. Per quanto riguarda l'autista ferito, le sue condizioni sono gravi. È stato trasportato d'urgenza all'ospedale per le cure. Sul punto dello schianto sono intervenute le pattuglie della polizia stradale assieme ai vigili del fuoco, ai mezzi del 118 e al personale di autostrade Alto Adriatico. La nebbia poi ha creato molti problemi alla viabilità di oggi. 14 dicembre alle 7.10 i vigili del fuoco sono intervenuti in via Eroi, divisione Acqui a Monselice nel Padovano. Un auto articolato era finito rovesciato fuori strada. Nell'incidente il conducente è rimasto ferito, i pompieri arrivati da Est hanno messo in sicurezza il mezzo ed è estratto l'autista dalla cabina di guida. Per pura fatalità nessun altro mezzo in transito è rimasto coinvolto. La viabilità però ha subito ripercussioni per buona parte della mattinata. Tra le cause gli inquirenti non escludono la scarsa visibilità, ma anche una manovra azzardata o una banale disattenzione. Infine all'alba, a Vicenza, i vigili del fuoco sono intervenuti anche sul cavalcavia di Vialdomoro per lo scontro tra due auto feriti, due conducenti. I pompieri a corsi da Vicenza hanno messo in sicurezza i mezzi, mentre la donna alla guida della Fiat Multipla e l'uomo della Nissan sono stati presi in cura dal personale sanitario del suo e trasferiti in pronto soccorso per accertamenti.